bene cari amici e amiche oggi alcune notizie fresche fresche che con questo caldo voglio dire ci vuole e si spera che siano anche una doccia fredda per il cremlino allora mettetevi comodi perché ci sono un paio di novità davvero interessanti come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a lasciare un mi piace qui sotto al video trovate tutti i bottoncini di youtube per aiutarmi in questa iniziativa allora la notizia più fresca di circa 20 ore fa e che le forze ucraine hanno appena lanciato un'offensiva nella regione di belgorod a nord di kharkiv qui vi mostro sulla mappa in quest'area nei mesi precedenti gli ucraini avevano già collezionato successi è possibile che questa offensiva sia partita circa 20 ore fa dopo aver sfondato il terreno infatti arrivavano report di queste esplorazioni chiamiamole così e adesso a quanto pare ci sono i presupposti per avanzare le notizie di queste ore parlano proprio di un avanzamento in profondità di circa due chilometri le icone che vi mostro sono proprio quelle di ieri e l'altro ieri e la loro disposizione in linea fra l'altro ci può aiutare a dedurre la direzione dell'avanzata ucraina nella regione dovremo aspettare domani o dopodomani per vedere le mappe aggiornate si spera vi mostro anche queste icone a voi chask città che è diventata famosa questi simboli indicano per esempio quattro bombardamenti aerei nel giro di pochi minuti che hanno colpito i famosi edifici del complesso industriale in cui una sacca di soldati russi è arroccata da mesi dalle immagini si vedono quattro colpi diretti contro questi edifici con l'ausilio probabilmente di guida laser degli ordigni hanno parlato fra l'altro di jdm quindi non è escluso che siano state bombe a guida inerziale o gps la risposta russa nell'area urbana sempre di voi chask sono due attacchi con bombe plananti di tre giorni fa il 19 agosto quattro giorni fa perché gli ucraini sembrano aver deciso di affrontare questa offensiva in modo diretto su posizioni russe che sono praticamente ferme da sei mesi è un bel mistero l'unica cosa che posso dire è che in questi giorni dall'occupazione della regione di kursk i russi il 15 agosto come vedete hanno spostato per esempio la 150esima brigata di fanti di marina proprio da voi chask alla regione del kursk e forse non solo questa quindi per questo motivo gli ucraini hanno deciso di contraattaccare presumo valutando una finestra di opportunità spostandoci invece brevemente verso la regione di kursk rispetto a ieri le iconcine di geolocalizzazione si sono moltiplicate segno che gli scontri stanno continuando incessantemente partendo da ovest scusate da est con il villaggio di ghiri che ormai è conteso fra i due schieramenti e tutta l'area a nord sembra essere interessata da attacchi aerei russi con droni anche da entrambe le parti e soprattutto si segnalano perdite da entrambe le forze ucraine si sono spinte poi fino ad alexandrovka dove un tiro efficace dell'artiglieria ha colpito la stazione e la linea ferroviaria a tigua tagliando i collegamenti poi presso corenovo altra città di cui si sarà avete sentito sicuramente parlare vediamo che le forze coreine hanno consolidato la posizione fino al fiume che divide in due la città fra est e ovest e queste icone per esempio mostrano che dei mezzi russi sono finiti su delle mine ucraine nella zona a ovest divisa fra nord e sud dal fiume seim che come sappiamo è stato oggetto di diversi attacchi aerei per disabilitarne i ponti continuano le attività e non solo presso tecchino al limite a ovest di questa parte della regione del kursk gli ucraini hanno guadagnato posizioni occupando parte della città sud e la zona della palude a nord spostandoci poi nella zona dell'ucraina occupata dalla russia su confine a est e sud est e si segnalano attacchi aerei russi nella città di chasivyar dove le truppe non riescono a superare il fiume e sono bloccati in questo modo da mesi poco più a sud presso anche questa ormai diventata famosa la cittadina di new york dobbiamo segnalare che il 19 agosto i russi sembravano aver catturato tutti i quartieri centrali della cittadina ma i e fra ieri e oggi la situazione se guardiamo almeno la mappa di deep state viene rappresentata in modo diverso per quello che fa sperare in un guadagno di terreno da parte ucraina più a sud invece in direzione di pokrovsk i russi stanno tentando il tutto e per tutto in questi giorni le segnalazioni di video e rapporti si sono triplicati letteralmente e si sospettava che gli ucraini si stessero ritirando provo a passare in rassegna alcune iconcine e vediamo invece artiglieria artiglieria e ancora una marea di attacchi dronici fuoco di sbarramento di carri armati assalti di fanteria attacchi aerei tutti concentrati in appena due giorni e questo ci può almeno darci un'idea di quello che sta succedendo e anche da parte russa tutte queste icone rosse sono attacchi dronici sembra stiano di facendo di tutto per chiudere la sacca verso sud e queste tre bandierine bianche per esempio sono soldati russi almeno video che li mostrano di soldati russi che issano la bandiera russa in questi piccoli gruppi di case provo a zoomare in avanti così ve li mostro sono piccoli assembramenti poco più a sud nell'ennesimo tentativo di avanzare da parte russa nella zona di v le dar hanno perso due t83 bm bm p3 una fv nell'ennesimo assalto frontale senza futuro che finisce come sempre molto molto male non vi posso mostrare le immagini perché sono troppo anche per me figuriamoci per youtube per concludere possiamo vedere per esempio nella zona più a sud alcuni report di attacchi missilistici ucraini in crimea e qui per esempio sul fiume dnipro e poi abbiamo parlato di aeroporti ieri di attacchi ad aeroporti russi sono arrivate con ferme per esempio dei danni inferti presso l'aeroporto di marinovca ci sono diversi report satellitari e anche da terra vi mostro le immagini per esempio di prima e dopo come possiamo vedere molte delle strutture logistiche le rimesse e di stoccaggio della base sono state praticamente rase al suolo molti aerei sono finiti rottami anche se questi erano protetti dagli scelter si vedono squarci negli scelter questo attacco aereo è stato di grande successo insomma e dalle immagini dei danni sulla zona di parcheggio degli aeroplani chiamata apron si può vedere e si può credere almeno che 8 su 34 siano stati distrutti e pesantemente o pesantemente danneggiati aspettiamo le prossime ore per le conferme ma in questo caso sarebbe davvero un duro colpo per aviazione russa visto che stiamo parlando dei loro aerei più moderni i su 34 il deposito di carburante poi nella zona del rostov continua a bruciare ed è stato fra l'altro colpito dall'ennesimo drone quindi sono praticamente cinque giorni che l'incendio va avanti e non c'è molto altro da aggiungere nel video di ieri poi ho riportato un attacco presso l'area del ponte di kersk precisamente presso il porto di kafkaz dove i residenti già nelle prime ore parlavano di una nave in fiamme ora almeno oggi ne sappiamo di più perché era proprio questa nave vi mostro delle immagini di repertorio e parliamo di prima e dopo nel confronto satellitare fra l'altro vediamo che la nave è completamente distrutta e adagiata sul fondale da quello che viene riportato nel momento in cui è stata colpita la nave trasportava un carico di carri armati diretti al fronte e ora alcuni fatti interessanti l'ultimo è il migliore ma come si dice no il meglio arriva sempre alla fine intanto vi passo questo video che non vi posso mostrare quindi vi lascio il link in descrizione per quello che è successo viene riportato questo video è stato girato nella regione di kursk ed è l'incrocio di una strada dove c'è un incontro fra una camionetta d'assalto ucraina che ha incontrato due mezzi d'assalto blindati russi un bmp 2 è poco oltre c'era un bmp 3 cosa è successo beh appena si sono resi conto di avere due mezzi d'assalto russi gli ucraini hanno inserito la retromarcia e hanno iniziato a scappare beh cosa è successo che il bmp 3 quello oltre ha iniziato a sparare verso chi ma naturalmente verso il bmp 2 il mezzo russo il video è davvero surreale perché alla fine insomma si commenta da solo il bmp 2 fa veramente una brutta fine fra le altre cose penso che sia anche normale andare completamente in palla in una situazione del genere e trovarsi con un alleato sulla linea di tiro quindi penso sia anche facile soprattutto non riuscire a vedere niente quando si montano sopra questi mezzi tutte quelle piastre quelle reti che servono per proteggersi dai droni poi in queste altre immagini vediamo delle colonne russe dirigersi verso la regione di kursk non c'è la data quindi non sappiamo se sono immagini dei giorni precedenti o di oggi apparentemente sono ferme la maggior parte dei mezzi che si vedono comunque sui rimorchi sembrano essere carri leggeri da assalto proprio bmp 2 bmp 3 questo tipo di mezzi passando avanti una notizia da washington conferma l'invio di 125 milioni di dollari di aiuti militari all'ucraina a leggere l'articolo dice che in questa tranche ci sono forniture di missili per i sistemi di difesa che se poi parliamo di nasems per esempio sono le stesse forniture di missili che equipaggiano anche gli f16 poi abbiamo le munizioni per le efficacissime artiglierie imras rimars scusate mlrs poi munizioni per sistemi spalleggiabili javelin anticarro e poi proiettili di artiglieria da 155 millimetri e 105 millimetri più dice l'articolo equipaggiamento per la guerra elettronica penultima notizia gli hackers ucraini hanno iniziato ad infilarsi nelle frequenze televisive russe e a così sostituirsi nei canali e a passare immagini che per dirla in modo semplice sono un tantino in antitesi con quello che passa la televisione russa da vent'anni e questo sembra un dettaglio da poco ma non è non è da poco cioè la televisione fa tanto comunque per collegarmi a questo discorso su una eventuale ribellione al cosiddetto dittatore come fra l'altro è stato anche chiamato oggi da kamala harris l'ultima notizia di oggi ve la leggo quindi qualche giorno fa georgie zakrevischi un altro capo di una compagnia militare privata ha effettivamente invitato i russi a sbarazzarsi del grande putin il 50 53 n zakrevischi ha prestato servizio nel kgb nell'esercito sovietico ha conseguito una laurea in giurisprudenza e si è coinvolto in attività segrete le cui informazioni sono proibite poi è passato alla consulenza militare indipendente e ha fondato l'organizzazione mercenaria paladin paladin incute timore in russia il suo sito web descrive il gruppo come segue qualche anno fa nessuno sapeva della compagnia militare privata ora lo sa il mondo intero lasciamo che i dilettanti pensino che siamo degli assassini le loro opinioni non ci interessano le persone non si rivolgono a noi per difendere le loro farmacie non chiedono il permesso di usare le armi non abbiamo bisogno di dimostrare nulla ok questo diciamo lo statuto della compagnia paladin questa compagnia di mercenari o almeno una forza militare privata è stata coinvolta in congo libano ed ecuador e attualmente protegge tre obiettivi strategici e ha oltre 250 mercenari considerati i precedenti e le attuali credenziali di zakrevski unica cosa che ci si aspetterebbe da un tale spietato sarebbe quella di rivoltarsi contro lo spietato per eccellenza della russia il grande putin i due dovrebbero essere presumibilmente lo erano una volta alleati naturali quindi per qualcuno come zakrevski criticare putin pubblicamente non è davvero una cosa da poco quindi zakreski deve essere molto arrabbiato dico molto arrabbiato perché non posso usare le parole testuali dell'articolo e cosa più importante deve sapere di non essere l'unico militare russo che è d'accordo con lui e perché le loro vene dovrebbero pulsare dice il grande putin è arrivato vicino a distruggere la madre russia dice così quindi questa è la diatribia almeno riportata dall'articolo fra zakreski e putin in questa traduzione e zakreski dice il nostro paese non è solo sull'orlo del disastro o ci è già vicino il nostro paese è già nei guai in grossi guai i droni volano in tutta la russia centrale fino a mosca e san pietroburgo hanno persino attaccato il cremlino la nostra flotta del mar nero viene spinta a largo viene spinta a largo come se non fossimo una grande potenza con una grande flotta ma un paese di terza categoria la nostra aeronautica praticamente non funziona perché viene allontanata anche lei siamo nelle stesse posizioni che abbiamo preso più di due anni fa e in parte in quelle in cui ci siamo ritirati la popolazione sta morendo si sta impoverendo si sta ubriacando e nessuno e a nessuno importa di questo tutto quello che hanno da fare ai vertici al cremlino e fare entrare migranti zakreski poi non usa mezzi termini nell'attribuire la colpa di questo triste stato di cose al grande putin dopo aver accusato gli ufficiali dell'esercito di incompetenza e peggio zakreski conclude il suo sermone con un appello che dice a coloro che sono nelle trincee sapete molto bene che tipo di indecenza sta accadendo lì ora conoscete molto bene i volti che stanno prendendo in giro voi e i vostri parenti invitiamo tutti a unirsi alla nostra unione per salvare il nostro paese il punto di non ritorno è già stato superato bisogna notare l'articolo dice che zakreski non parla di se stesso quando dice vi chiamo ma usa il plurale quindi è un riferimento all'intera compagnia paladin è un sollecito a tutti i vertici militari infatti dice potrebbe anche essere un riferimento ad altri militari sia nelle compagnie mercenari e private che nelle forze armate regolari vale anche la pena di sottolineare il pubblico di riferimento i soldati che prestano servizio e muoiono in condizioni miserabili sul fronte ucraino zakreski li paragona a quelli che morirono nel 1916 che portarono direttamente alla caduta con quella ribellione militare portò direttamente alla caduta dello zar quindi lo sfogo di zakreski è stato ovviamente provocato dall'incursione dell'ucraina nella provincia di kursk e dalla vergognosa incompetenza dell'esercito russo dei servizi segreti e dei loro leader e zakreski ha assolutamente ragione a rendersi conto che la responsabilità ricade su putin essendo diventato il grande leader putin ha la responsabilità di tutto ciò che accade all'interno della russia e questo è il prezzo da pagare per questa responsabilità l'appello di zakreski che è stato presumibilmente distribuito ampiamente fra le elite militari e civili russe non può essere liquidato come il brontolio non rappresentativo di un mercenario scontento zakreski come prigozine prima di lui rappresenta la classe militare russa se è infelice è disposto a rischiare la sua carriera e forse la sua vita rendendo pubblica la sua richiesta di rimozione di putin quindi devono esserci molti altri che condividono il suo malcontento questo potrebbe essere il motivo per cui non è stato ancora arrestato o ucciso per ora se zakreski dovesse in qualche modo arrivare al potere le sue inclinazioni politiche sarebbero probabilmente identiche a quelle di putin quindi aspettiamoci imperialismo fascismo guerra e genocidio in ucraina ma comunque zakreski non è putin e qualunque siano le sue aspirazioni politiche non potrebbe mai avere il potere e l'autorità di putin quindi l'articolo dice questo personaggio è importante non perché preannuncia una russia diciamo più moderata più gentile dice l'articolo ma perché preannuncia il caos fra le elite al potere in russia e il caos significa meno interesse da parte di mosca per l'ucraina e altri stati confinanti crescente instabilità in patria e la possibilità per quanto piccola di un allontanamento dal fascismo potrebbe non sembrare molto ma dato l'orrore del regime di putin sarebbe notevole e questa era la traduzione signori miei quindi lascio a voi le considerazioni fatemi sapere nei vostri commenti cosa ne pensate per quello che posso dire io si aprono le scommesse per i prossimi giorni del tipo quando e soprattutto come detto questo vi saluto come sempre un abbraccio alla prossima